ciao ragazzi oggi facciamo un panino di quelli che spacca ma spacca veramente cioè qua secondo me sono andato oltre ogni livello allora come al solito il pane nero sapete sono un amante del pane nero ci mettiamo prosciutto di scrofa di cinta senese che per chi viene solitamente qui da me e sarebbe quello che stavo tagliando coltello che adesso l'ho disossato e adesso lo taglio a macchina ma quella a volano perciò è sempre come se ci fosse il taglio a coltello ci mettiamo alcune fette di questo prosciutto qua e di un formaggio veramente squisito che è un erboninato a latte di vacca affinato con i marroni e il rum che l'ho già presentato in altri video oggi lo mettiamo assieme al prosciutto nel panino una cosa rimane tutte e due tutti e due i prodotti sono dolci perciò non c'è contrasto ma c'è un adesso vi faccio vedere guardate qua che roba spettacolare spettacolare la dolcezza del formaggio con i marroni e il rum la dolcezza del prosciutto il pane nero che rimane comunque molto dolce spettacolo una cosa fantastica veramente fantastica ve lo consiglio ragazzi pane nero prosciutto di scrofa di cinta senese e l'erboninato a latte di vacca affinato con i marroni e il rum una cosa spettacolare grazie grazie grazie